Musica Bentornati a tutti voi al BAU Non ci potevo credere, non ci posso credere Laila non ha trovato adozione nonostante le numerose richieste La nostra copertina è questa fantastica schnauzzer gigante e il suo fratello Sì, non riusciamo a trovare una famiglia per loro due Non sono da adottare in coppia, l'abbiamo detto e stradetto Lei ha già due anni e mezzo, perciò è meno irruenta del suo compagno Dolcissima Sì, ma lei è dolcissima È dolcissima, forse esce con lui, con Victor e fanno i diavoli Ma lei da sola è stupenda Ci chiedono sempre, come dicevo prima, ci chiedono sempre cani da lasciare in giardino Perché hanno il giardino, hanno bisogno e loro sono qua Lo schnauzzer gigante è un cane rustico Si sa, dunque deve essere considerato tale, però d'una dolcezza infinita Io ho cresciuto due figli con una uva, una schnauzzer gigante, è stata eccezionale In questa cosa abbiamo la coppia, Giordano, abbiamo Vittor alla nostra sinistra Chi volesse giocarsi questa fantastica coppia, che per svariati motivi, che poi Giovanna vi spiegherà Sono approdati qui al Bau, col pedigree Tra parentesi, perché sono numerosi Purtroppo i cani di razza che vengono abbandonati O comunque che, nonostante i pedigree, vengono lasciati nei canili Noi sappiamo che loro hanno trascorso l'estate, che sta finendo, in box Sì, infatti, è una sorpresa perché pensavamo che andassero in famiglia presto E invece no, Vittor ha appena compiuto un anno ad agosto Perciò è ancora un cucciolone, logicamente è molto più irruento, molto più giocoso, più vivace Però sono due cani bellissimi, ma poi sono bravi, adorano i bambini Non so, se avete un pezzo di giardino, ma loro sarebbero i cani più felici di questo mondo Basta giocare con loro, magari delle belle passeggiate Non so, sono qua, venite Noi insistiamo, il nostro, tra virgolette, è una passione la nostra Ma il nostro compito è quello di ripresentarli sino all'adozione e non rassegnarci E noi non ci rassegniamo assolutamente Partiamo a questo punto Guardiamo un attimo la scorsa trasmissione Certo E gli adottati, perché comunque la squadra, il lavoro del BAM funziona Sì, 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 continua anche d'estate, siamo sempre qua Allora, abbiamo adottato Johnny, il vecchietto cardiopatico E io per questo devo ringraziarvi tutti, perché in effetti abbiamo avuto tantissime ricrieste Tante visualizzazioni Perciò grazie, grazie veramente Grazie a Francesco, grazie a Giordano e grazie a tutti voi che ci seguite Perché senza di voi non avrebbe trovato casa E invece adesso lui è amato e speriamo che viva più a lungo Ce l'auguriamo Adottato, adottato Grazie, grazie agli adottati Felicemente, felicemente Poi abbiamo Duke, che era il cane, il signor cane della Libri Tutti Chloe, quella cucciola di 7-8 mesi che era veramente una peperina senza regole E Diego e Zelda, i due pastori, cani da pecore, diciamo Sono stati adottati felicemente, stanno bene Grazie veramente a tutti La collaborazione con il canile di Sant'Ilario continua, quindi arriveranno Sì, 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 sicuramente Adesso, purtroppo, tra luglio e agosto abbiamo avuto tante cessioni di proprietà E siamo un pochettino, diciamo, indaffarati su quello Ci siamo un po'... abbiamo... non abbiamo tanto posto Però a presto ci faremo di nuovo vivi Bene, dopo questa strepitosa copertina partiamo con la rassolio Partiamo Angela, ci presenta Nikita Nikita, Nikita è una dolcissima cagnolina, una segugetta Nata il novembre del 2019 E... anche lei è una cessione di proprietà Purtroppo in questi mesi, come ho detto, ne abbiamo avute tante Cosa posso dire? Vivace, allegra, simpatica, affettuosa, coccolona Ubbidiente Insomma, tutte le buone qualità per una bella famiglia Che ha voglia di giocare e di correre con lei e fare tante passeggiate La prima adozione, se vogliamo, è la più importante Eh sì, la più importante La prima adozione uno non ha mai, come si dice, l'esperienza E allora un cane che, insomma, già non è proprio un cucciolo Ha già il carattere formato e buona così sarebbe l'ideale Un quadretto quasi da calendario per Mila e Nevischio Non li volevamo disturbare, però sono una coppia che rappresenta in questo momento la forza del rifugio Eh sì, sono fantastici Sono tutti e due rimasti soli perché erano in box con altri compagni Mila e Nevischio Mila è nata nel 2019, Nevischio nel 2020 Nevischio è un po' più mare in mano Lei, non so, comunque sono due cani di taglia grande Un po' timorosi, un po' timidini Ma ormai sono tutti e due molto Nevischio è molto più socievole Patatone, giocherellone, eccetera Mila con lui vicino si sente forte Perciò va anche in passeggiata e accetta le carezze E questo vuole essere il nostro invito Semplicemente a varcare la soglia del Bau Vinirli a conoscere, portarli a spasso e chissà Eh sì, 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 è così che bisogna Poi c'è scatta l'amore per uno dei due Primi passi per Tobi, è appena arrivato un cucciolo? Sì, è un cucciolo di cinque mesi Trovato insieme alla sorellina Spersi in una collina della provincia di Caserta La sorellina è stata adottata Lui no e ho detto Ma sì, qualcuno ci sarà qua Che ha voglia di prenderlo e portarlo a casa È dolcissimo, affettuoso È ancora un po' spaventato Ma è normale Fra qualche giorno non sarà più così L'importanza delle coccole, delle prime carezze di Anna Sono un linguaggio fondamentale Eh sì, sì, sì Poi proprio l'incontro con altre persone Lui vedeva un'altra persona, un'altra volontaria Invece adesso si trova qui, deve conoscerci Ma è giovane, ha cinque mesi Si farà In un'altra traduzione semplice Sì, penso proprio di sì È dolcissimo È un cagnolino veramente da baciare Tor è un cucciolo un po' più impegnativo Diciamo più dinamico Passeggiate Passeggiate Tutti i giorni Tutti i giorni, altro che sì Diciamo, è un rosso È di pelo rosso E quelli di pelo rosso sono più vivaci Diciamo che dalla sua dobbiamo dire Che è nato a novembre del 2020 Perciò a nove mesi Cioè voglio dire, non è che si può pretendere Se il cane sta fermo è perché sta male Certo che comunque ha l'argento vivo Sta dimagrendo in box Perché lui in box non ci vuol stare Sicuramente in una famiglia Un pezzo di giardino Passeggiate, amore Sicuramente cambia dal giorno alla notte Qua è ancora molto spaisato È una rinuncia di proprietà anche lui Crescerà ancora perché è un cucciolo Il suo nome è Boris Le volontarie si danno da fare Sì, lui vuole carezze da tutti Baccia tutti È un cane super allegro Ha sette mesi, non è giovanissimo La mamma era un pastore tedesco Contanto di pedigree Però si deve essere accoppiata Con qualcuno un pochettino più piccolo Per fortuna Comunque crescerà ancora un po' Però è un cane Insomma da dare qualche regola Da gestirlo e farlo crescere bene A volte ci dimentichiamo Che loro provano dei sentimenti Sì, tanti se ne dimenticano Anche lei ha una rinuncia di proprietà Sei anni in famiglia Si chiama Nala Si chiama Nala e ha otto anni Ha il musetto un po' bianco Ma lei è vivace, piena di vita Non è logicamente qui in canile Perché non può stare in un box Sapete che questi cani patiscono molto E lei non è più una giovane età E allora stamattina è andata a prenderla Anna, la nostra volontaria La riporta in stallo Però se volete venire a conoscerla Prendiamo un appuntamento E vi garantisco che è un cane eccezionale Veramente, veramente molto bravo Viveva anche con un altro cane maschio Perciò tutto detto La prima considerazione che mi viene in mente È che sono cuccioli fortunati Perché hanno le crocchette Questa mattina la protezione Le coccole Un futuro, diciamo, garantito Sul territorio ci sono cuccioli Che queste cose questa mattina le dimenticano Ah sì sì Non dobbiamo pensarci Perché effettivamente Loro arrivano dalla Sardegna All'associazione Liberi Tutti Erano quattro Due sono andati in adozione velocemente E sono rimasti Florian e Kojak Non chiedetemi chi è uno Che è l'altro Perché non lo so Sono nati a maggio di quest'anno Sono proprio cuccioletti Perciò, come dico sempre Diciamo sempre Ricordatevi che cuccioli Hanno bisogno di tante attenzioni Bisogna gestirli bene Bisogna, insomma, educarli Ed è un impegno molto grosso Però poi le soddisfazioni ci sono Due pastorelli, credo Eh sì, secondo me sì, tanto Ci hanno la faccia da pastore Sono belli, sono belli Poi questo colore è veramente bello Verranno abbastanza grossini Però, che soddisfazione Che non crescano in canile Che non crescano in canile No, sono stati portati qui apposta Altrimenti là non avrebbero avuto Nessuna possibilità di adozione C'è chi entra e c'è chi esce Dal portone alle nostre spalle In questo momento Chiro è pronto per appasseggiare Sì, perché lui ha bisogno di sfogarsi Di uscire, di correre Diciamo che è un po' il coccoloso del canile Perché lui, essendo sordo Ha un pochettino più di... I volontari ci dedicano più tempo Lui ha già sei anni, compiuti a luglio Ed è qui da noi almeno da quattro Non è mai stato richiesto Nessuno vuole venire a conoscerlo È un cane gestibilissimo Non ha alcun problema Ha fatto anche un bel corso di educazione per sordi E bastano poche cose, poche regole Insomma, almeno venite a conoscerlo Fortuna che ha il BAU Diciamo questo Sì, diciamo così Sì, sì Perché noi ci dedichiamo tanto tempo Simone che l'ha preso proprio sotto la sua... Alla protettrice Insomma, però certamente non è un cane Che poteva stare in giro per il mondo Ecco, no, no Lui doveva stare... Ci deve essere qualcuno che si occupi di lui Bene, vi abbiamo dato Una dozzina di buoni motivi Per avarcare la soglia che sta alle nostre spalle Perché farà bene a loro sicuramente Ma farà sicuramente bene anche a voi Certo È l'Isir di lunga vita Perché bisogna vivere per dedicarsi a loro Assolutamente Bene Grazie Angela, grazie a nome di tutti Grazie a voi, grazie mille a tutti Grazie Venite a trovarci Perfetto Giovanna, alla prossima Al prossimo mese Con altri bei ciuffotti Come diciamo noi E grazie a tutti voi per l'attenzione Buona domanda a tutti Rivediamo i nostri amici Grazie a tutti Grazie a tutti L'automobile club Torino Che patrocinia dalla nascita video adozioni Ha deciso di pubblicare sul proprio sito Acitorino.it Le nostre trasmissioni Da sempre l'Aci Torino È impegnato nella campagna Contro l'abbandono degli animali Lungo la strada Perché sono causa certa di incidenti Ringraziamo l'Aci Per la collaborazione E per il contributo alle adozioni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti